Ciao ragazzi, sono Guglielmo Gicco, del team Pitbull di Gicco di Santa Maria, da puoi vedere. Sono un atleta di box, kickbox Muay Thai, e adesso sono passato al Bernacolo. Bernacolo che cosa è? Bernacolo è la box senza guanti. Si combatte in Inghilterra, dove riportano le tradizioni del vero pugilato nel 1800, come è nato il vero pugilato. E io ho firmato un contratto con la BKB Italia, dove sono membro di questa grandissima squadra, dove fa capo al presidente Carlo Almezzo Freddi Frattesi. Sono tutta gente che io ho sempre seguito da piccolo, e adesso faccio parte di questa squadra anche io. Sono uno dei portavoce di questa squadra, visto che sono uno dei primi in Italia, uno dei pochi in Italia a combattere di Bernacolo, il primo atleta del sud Italia a far conoscere questa disciplina. Ho combattuto sabato scorso a Sheffield contro il campione Stefan Taylor, la quale già l'avevo battuto il 6 dicembre scorso a Bolton, sempre in Inghilterra. L'avevo battuto per KO, questa volta abbiamo fatto il rematch, è venuto molto più preparato della volta scorsa, però sono riuscito a concludere il match molto combattuto, sono riuscito a vincere il match alla seconda ripresa per KO. Avevo un contratto con la BKB, però sicuramente penso che non rinnovo, perché voglio ricombattere, voglio scalare la vetta del titolo, voglio partecipare all'Europeo di Bernacolo, voglio essere il primo atleta in tutta Italia a vincere la cintura di Bernacolo, Bok San Manuel, sempre con l'aiuto dei miei preparatori, sempre con l'aiuto del mio team che mi sta vicino, con l'aiuto dei sostenitori, la quale mi hanno sempre mandato messaggio ogni volta che vado all'estero, vinco, perdo, ho sempre avuto gran parte non solo della campagna, ma anche di più in Italia. Saluto a tutti quanti, persone di Santa Maria, le persone che mi seguono, a tutti quanti, dai! Grazie a tutti!